Bella a tutti i miei slime, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo a ascoltare No Game Freestyle di The Supreme per Fedez. So già cosa starete pensando, Al, ma ti sei drogato il cervello? No, o forse sì, ma comunque non c'entra nulla con questo video. Essenzialmente già da un po' di tempo avevo intenzione di cominciare a portare anche contenuti magari un po' più mainstream del solito, in modo tale da riuscire a dare anche il mio parere su quelle robe. Comunque chi è iscritto al canale lo sa, se non lo siete iscrivetevi e rimediate questo errore madornale bruttissimo. Comunque sa bene o male quelli che sono i miei gusti e cosa mi ascolto e pensavo che fosse una cosa anche interessante riuscire a dare qualche giudizio magari un po' più fuori luogo rispetto a quello che è il pensiero comune. Oggi, pensate un po' che culo, abbiamo l'onore di sentire The Supreme e Fedez sopra un beat di Young Miles che tra l'altro ho sentito e dovrebbe essere una canzone mezza drill. Io sinceramente sono un po' scettico ma avremo modo di chiarire anche questo. C'è un video anche uscito su YouTube, se non sbaglio girato su GTA, quindi comunque una cosa carina e soprattutto low budget. Beh, che dire, sicuramente non è un segreto che io per tutti e tre non straveda. Anzi, Fedez vabbè, ormai sono anni che si è discostato da rap e fa proprio un altro genere che non mi interessa e quindi non me lo ascolto. Da Supreme sarò sincero, è uno di quelli che ho più sul cazzo dei rapper italiani perché per me finché lo vedi come produttore è anche abbastanza discreto ma come rapper io direi che è imbarazzante e Young Miles è un produttore che non mi ha mai fatto impazzire almeno per le produzioni che ho sentito. Questi sono i miei pensieri sugli artisti ma chiaramente come ho già detto in altri casi quando vado a fare una reaction cerco di mettere da parte simpatie o antipatie e mi limito ad ascoltare la canzone ed è quello che faremo adesso. Ok, non so da dove mi è uscita sta cosa del video di GTA perché a quanto pare ora sono lì sulla canzone e vedo solo la schermata, insomma, della cover o di quello che è. Vabbè, ascoltiamola lo stesso. Per me è inascoltabile già. Voglio lo sangue questi baby shark, di odio 3000 come Tony Stark, tu pensi che mostri al mondo i miei figli, ma io sto mostrando ai miei figli il mondo. Ti chiede che chiede differenza ad ogni secondo, ti spiego mi chiedo se sono il tuo trame risultato. Questo strano, aspetta. Meno veleno che il cielo è sereno, un telo pietoso di zucchero e ravelo. E' saluta. Lui non lo sopporto proprio, mi sto pentendo. E' saluta. Parliamone. Partirei dagli aspetti positivi che secondo me sono molto pochi. Allora, la strofa di Fedez in particolare, ma un po' tutta la canzone, vi direi anche che è rappata bene. Ok? Perché ora, se non mi concentro sul testo e sento solo come stanno sul beat, vi dico anche, è ok. E se avessi 14 anni, lo dico davvero, probabilmente darei un altro ascolto, ma forse anche altri due. Però ora io, che ho 22 anni, porca puttana, 22, non penso di essere così vecchio. Vabbè, tralasciando queste riflessioni sulla vita, come potrei ascoltarmi una cosa del genere? Cioè, la cosa che mi fa ridere, che fa contrasto per tutta la canzone, è il beat. Che è vero, è drill ed è cattivo. E anche, per esempio, la prima strofa di Fedez la rappa in maniera anche abbastanza cattiva. Ma il testo, cioè, è un flow cattivo con un testo di Walt Disney, cioè, e fa un contrasto assurdo, perché prendiamo proprio le prime rime. Vogliono il sangue questi Baby Shark, fanno la fila come a Luna Park, vi odio 3000 come Tony Stark. Quando la rappata, aveva pure un bel flow pesante. Però che cazzo ha detto? Cioè, veramente qua parliamo di rap per dodicenni. E per carità, non ho nulla contro questo. Vogliono fare canzoni indirizzate a quel target di pubblico? Buon per loro, però vedi, io che ho 22 anni, questa cosa non me la riascolterei manco sotto tortura. Ora, mi preme fare chiarezza anche su un altro concetto. Una canzone, se c'è un beat drill, non è una canzone drill. Ci sono altre mille cose che caratterizzano un pezzo normale rap da un pezzo drill. Come può essere il flow, oppure, che qua c'è comunque in parte, i testi. La drill parla di omicidi, ragazzi, parla di drive-by, parla di giri di droga immensi. E qua parliamo del Luna Park e di Tony Stark. Quindi non mi venite a dire che questo è drill, perché ve lo giuro che vi potrei prendere a ceffoni in faccia. La produzione non è malvagia, sinceramente. Ci può stare un classico beat drill, è nulla da dire. Poi Da Supreme, ragazzi, io vi ho detto, non lo sopporto minimamente. Perché come rapper, sinceramente, io veramente... Mi dite, un fan di Da Supreme, tu che stai guardando questo video e sei un fan di Da Supreme, mi scrivi nei commenti che cosa ti piace di Da Supreme come rapper. E aspetta, perché io so già la tua risposta. È innovativo, musica mai fatta prima. E tutte queste altre stronzate che ora, perdonatemi, io non voglio essere cattivo e non voglio innervosirmi. Però, signori, basta avere un orecchio un attimo più allenato per rendervi si conto che Da Supreme non è questa grande innovazione che ha cambiato le regole del game italiano. Come rapper, cioè, che cazzo mi devo ascoltare veramente i testi per i 14 anni? E per carità, pure lui è 2001 e se è quello il suo target, lo rispetto. Però, davvero, una persona come me, che ha 22 anni, ma può mai ascoltarsi questa roba? E ora lo so che ci sarai anche tu, 25enne, 30enne, che ti ascolti Da Supreme. Ti rispetto, ti voglio bene, ti ascolti questa roba e sei contento? Non c'ho nessun tipo di problema. Però io, che ho 22 anni e che ascolto tutta quella roba che ascolto io, non potrei mai ascoltarmi un pezzo del genere. Leggiamo un attimo un po' il testo, almeno nei suoi momenti più chiave, nonostante magari non sia il miglior testo, però in realtà qualcosa quasi interessante di Fedez l'ho sentita. C'è subito una barra in pieno stile Fedez, perché tutte le rime che faceva quando faceva rap erano simili. Tu pensi che mostri al mondo i miei figli, ma io sto mostrando ai miei figli il mondo. Penso che spesso gli venga criticato il fatto che lui comunque mette mille foto dei propri figli sui social e in un certo senso forse li privi di quella privacy, però lui poi contrabbatte dicendo che in realtà a telecamere spente, diciamo così, è un'altra persona. E ci può stare, è una cosa tutto sommato da Fedez, però carina. Vedete quando parlo di rap per bambini? Lo sciroppo per la tosse l'anno scorso è andato molto, ma quest'anno se fa freddo metti la maglietta sotto. Ma di che cazzo stiamo parlando? E ovviamente per sciroppo per la tosse si riferisce a Prometa, Zin, Maka e tutta quella roba lì che ovviamente non è un segreto che usano molti rapper e in generale chi fa trappo. Il testo di Da Supreme manco lo leggo, ma perché ora lo sto scorrendo e mi sta venendo solo il mal di testa per quante cazzate dice, quindi io veramente Da Supreme è uno di quelli artisti che sono sicuro che non apprezzerò manco in un'altra vita. Le cose più interessanti, per modo di dire, comunque le ha dette Fedez. Ma per il resto, ragazzi, se questa canzone non fosse mai uscita, io colazione l'avrei fatta lo stesso, pure tripla, quadrupla colazione, perché boh, ho cercato anche di prepararmi mentalmente a questa cosa, però devo dire che è peggio di quanto mi aspettassi. Comunque, voi cosa ne pensate? Questo era chiaramente solo il mio parere. La canzone vi è piaciuta? Avete preferito Fedez da Supreme? Siete contenti per questo ritorno di Fedez un po' più in chiave rap? Fatemelo sapere qui sotto con un commento. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace e nel caso in cui non lo foste, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina per non perdervi altri video e altre reaction e tutto quello che carico qui sopra. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slash!